Penso che abbiate visto tutti al cinema o in televisione o in DVD Ocean's Eleven e poi magari anche gli altri film e le altre pellicole della saga protagonista Danny Ocean interpretato da George Clooney e la sua banda di scassinatori. Un film che ha rilanciato un filone proprio delle simpatiche canaglie e che racconta imprese rocambolesche, i truffatori, i ladri, i scassinatori, gente di varia estrazione che cerca il colpo di una vita. Ma a volte i colpi non sono fatti per denaro o per raggiungere inarrivabili ricchezze, no, sono fatti per motivi potremmo dire nazionali o nazionalistici o patriottici o strategici. Ecco, la storia di oggi non è riguardata un casino o una banca o un cavo blindato strappieno di ricchezze. No, la storia di oggi è ambientata in un'ambasciata, ambasciata straniera di un paese contiguo all'Italia. Ed è una storia che coinvolge spie, ufficiali di marina, scassinatori professionisti, artigiani del metallo, informatori. Insomma, una storia che, sì, meriterebbe un film. Magari venisse fatto un film su questa storia. Perché, pur assomigliando tantissimo a una pellicola, è tutto vero ed è qualcosa che meriterebbe di essere raccontato. E allora ci proviamo noi oggi, raccontandovi la storia del colpo di Zurico. 1917. Si combatte la grande guerra in Europa. Ormai da tanto tempo. L'Italia è entrata nel conflitto quasi due anni prima. Allettata dalle promesse del patto di Londra, denunciando la triplice alleanza e schierandoci con l'intesa. Non è semplice il conflitto per l'Italia, lo sappiamo. Ma oltre alla guerra che viene combattuta a est sul fronte orientale, in Friuli, in Carnia, sul Carso, a Gorizia, c'è un'altra guerra. Una guerra sotterranea. Una guerra di spie. È una guerra sporca. Molto sporca. Una guerra in cui si ricorre a qualsiasi mezzo. Anche quello più bieco, anche quello meno corretto in assoluto. È una guerra, appunto, di spie. Spie professioniste, ma anche spie improvvisate. Già perché dall'ingresso in guerra dell'Italia, l'Austria-Ungheria, che proprio non ha digerito quello che giudica essere il tradimento italiano, ha deciso di ricorrere a un'arma diversa. Un'arma economica. Una leva economica. Le spie dell'Austria-Ungheria promettono soldi, denaro, tanto denaro, a chiunque fornirà informazioni. O si presterà opere di vero e proprio sabotaggio, a danno di infrastrutture civili o militari. Se ne parla molto di queste spie. Se ne parla soprattutto dopo che due navi italiani, la vecchia colazzata a policalibro Benedetto Brin e la modernissima Leonardo da Vinci, affondano in porto. Oggi sappiamo che, almeno nel caso della Benedetto Brin, fu una tragedia, una disgrazia. Non ci fu nessun sabotaggio. Semplicemente i depositi cordite, custoditi a bordo, come cariche di innesco per le munizioni, detonarono in maniera fortuita. Una vera e propria disgrazia. Però Leonardo da Vinci si è ancora incerti tra il sabotaggio e anche in questo caso una disgrazia a bordo. Fatto sta però che, in ambo i casi, quella parola proibita, sabotaggio, viene fatta circolare. La parola arriva agli organi di stampa, che ne scrivono. Adombrano il sospetto che ci siano degli italiani traditori al soldo dell'Austria-Ungheria, che si siano fatti corrompere per danneggiare la flotta italiana, che non sta ingaggiando battaglia con quella austro-ungarica, ma sta ostruendo, attraverso il blocco del canale d'Ottandro, il passaggio delle navi austriache verso il Mediterraneo. Però è strano. Come hanno fatto gli austriaci a entrare in contatto con dei sabotatori italiani? Quello che è sicuro è che gli stessi austriaci mettono in giro la voce che sì, esisterebbe una rete di loro agenti in Italia. Il sospetto è che lo facciano più che altro per gettare scompiglio, per dare l'impressione all'Italia di avere una quinta colonna al proprio interno, una quinta colonna nemica. Ma se fosse tutto vero, se veramente nel Regno d'Italia fosse presente una quinta colonna di sabotatori e spie al soldo di Vienna, è un sospetto che circola a lungo e che muove il controspionaggio italiano. Specialmente quello della Regia Marina, perché la perdita di quelle due navi, il Benedetto Brine aveva un valore bellico abbastanza modesto, ma la Leonardo da Vinci, una delle tre della classe Conte di Cavour, era sostanzialmente di ultima concezione e da poco entrata in servizio, brucia, brucia parecchio alla Regia Marina. Per questo motivo l'Ufficio Informazione della Marina incarica un paio di ufficiali, il capitano di vascello Marino Laureati e il tenente di vascello Pompeo Aloisi di indagare sulla questione. Aloisi in particolar modo è un ufficiale estremamente brillante e intelligente, si coordina con qualunque organo di indagine presente in Italia e arriva a ipotizzare che da qualche parte devono arrivare istruzioni, materiali e soldi alle spie presenti in Italia, che siano austriaci sotto falsa identità o che siano italiani che hanno deciso di tradire per denaro. L'intuizione di Aloisi è giusta e viene confermata dopo un po' da un certo Giuseppe Larese. Larese è un cittadino italiano, però si reca spesso e volentieri in Svizzera. La Svizzera è neutrale, non prende parte del conflitto e idealmente sarebbe il posto giusto dove copiere azioni di spionaggio o dove coordinare delle azioni di spionaggio. Larese, come abbiamo detto, fa avanti e indietro. Un giorno, ad esempio, attraversa la frontiera con l'Italia, di ritorno dalla Svizzera, dove era entrato appena 24 ore prima, con una valigetta piuttosto sospetta, una valigetta che l'andata non aveva e non aveva dichiarata. Per questo motivo i doganieri chiedono di poterla ispezionare, non davanti allo stesso Larese che viene tenuto con una scusa nei locali della dogana di Como. In quella valigetta, nascosti sotto alcuni maglioni, gli agenti della dogana trovano dei candelotti, di dinamite, esplosivi. Quindi Larese è un sabotatore, molto probabilmente al soldo proprio degli austriaci. I doganieri riferiscono immediatamente al servizio di informazione della marina. E qui interviene Aloisi. No, non vuole che Larese sia arrestata, vuole scoprire il suo gioco. Quindi chiama immediatamente l'ufficio degli artificieri più vicino e fa sostituire i candelotti esplosivi con dei candelotti inerti, simulacri, già disinnescati, non pericolosi. Con delle abili scuse, Larese viene lasciato libero e resta anche abbastanza stupito di tutto ciò. E gli viene detto che deve solo stare attento a denunciare sempre tutti i colli che porta con sé. Comunque gli viene anche detto che la valigia non è sospetta, perché tutto sommato è una valigia da viaggio comune. E si erano sospettiti esclusivamente perché assomigliava a una valigia denunciata come rubata da un altro viaggiatore. Quindi tutto a posto. Larese non sospetta nulla. Soprattutto non sospetta quando apre la valigia e trova i candelotti, solo che non sa che sono stati sostituiti. Prosegue il suo viaggio e arriva fino alla cascata delle marmo. In quella zona c'è una diga. La diga che serve a produrre energia eteroelettrica che alimenta le acciaierie di Terni. L'acciaierie strategiche servono a produrre l'acciaio utilizzato tanto per le artiglierie quanto per le costruzioni navali. La missione di Larese è quella di far saltare la diga, quindi di danneggiare l'industria italiana. È pedinato Larese, ma non se ne accorce. Arriva la diga, riesce a entrare, accede al locale turbine, posiziona i candelotti e in questo momento viene arrestato. In carcere Larese viene torchiato, viene anche picchiato. E alla fine rivela tutta la verità. Rivela di essere un traditore, rivela di essere un sabotatore, non per convizione, per denaro. È stato assoldato da un certo Rudolf Mayer. Chi è Rudolf Mayer? Ufficialmente è accreditato come viceconsole dell'ambasciata austro-ungarica in Svizzera. In realtà si scopre che è un ufficiale di marina, un capitano di vascello. È stato inviato in Svizzera con il compito preciso di coordinare l'intera rete delle spie e dei sabotatori, non solo in Italia, ma in tutto il blocco occidentale, cioè anche in Francia e in Belgio. Mayer è l'uomo delle spie. È l'obiettivo di Pompeo Aloisi, che a quel punto fa scattare l'operazione Zurigo. È a Zurigo che Mayer ha la sua base, all'interno del consolato austriato. Ed è a Zurigo che Aloisi decide di agire. Porta con sé alcuni uomini. Inizialmente sono degli ufficiali, come il tenente Ugo Cappelletti o il tenente Salvatore Bonnes. C'è anche Stenos Tanzini con lui. Tutti i quarti sono forniti di credenziali diplomatiche. Vengono spacciati per burocrati dell'ambasciata italiana. Una copertura viene utilizzata stabilmente e stabilmente nel mondo delle spie, ma non sono diplomatici. Sono lì con una missione precisa, quella di entrare nell'ufficio di Mayer e aprire la cassaforte. Sono convinti, Aloisi e i suoi, che dentro quella cassaforte è conservato un tesoro, che non sono lingotti d'oro, diamanti, gioielli o contatte. No, è l'elenco delle spie e dei sabotatori. È quello il loro obiettivo. A Zurigo, Aloisi recluta un infiltrato. Si chiama Livio Bini. È un avvocato. È un avvocato che lavora spesso per conto dell'ambasciata austriaca. Ma è stato convinto dagli agenti italiani a fare il doppio gioco. e quindi passa spesso e volentieri delle informazioni al consulato italiano. Bini ha un compito, quello di tracciare la mappa interna dell'ambasciata. E lo fa. Spiega come entrare. E spiega anche che tra l'ingresso in cortile dell'ambasciata e l'ufficio di Maier ci sono ben tredici porti e almeno dodici di queste vengono sempre chiuse a chiave ogni santo giorno. La missione quindi è particolarmente delicata. Non è semplice. Occorre intervenire con degli specialisti. Si fanno più tentativi, c'è da dirlo. Il primo tentativo viene fatto a inizio febbraio del 1917. Una notte, servendosi delle mappe redate dall'avvocato Bini, Aloisi e suoi entrano con dei duplicati e passepartout. Ma non funziona nulla. Del mordere? Di rinunciare? Assolutamente. Non si ha mai. Aloisi allora ha un'altra idea. Tramite i contatti dell'ambasciata si fa dare l'elenco dei migliori fabbri, soprattutto di quelli che hanno lavorato nella fabbrica che produce quelle serrature e soprattutto dei migliori scassinatori d'Italia. Vengono reclutati uno volontario e l'altro diciamo a foro. Due specialisti. Il volontario si chiama Remigio Bronzile. Ha lavorato proprio in quella fabbrica e conosce molto bene quelle serrature. È un abile artigiano. Può limare una chiave in pochi secondi e adattarla alle serrature che ben conosce. L'altro si chiama Natale Papini. È schedato. È un delinquente abituale. Viene ritenuto il re degli scassinatori d'Italia e per questo motivo si trova nelle patriega aeree. Non è chiaramente contento di stare lì. Però tra la scelta di collaborare col spionaggio italiano ed essere spedito al fronte in un battaglione di disciplina col rischio concreto di rimetterci la pelle Papini sceglie la prima opzione anche perché gli viene prospettato un possibile sconto di pena. Ebbene Papini e Bronzin partono anche loro per Zurivo. Arrivano vedono i piani capiscono cosa si deve fare entrano in azione assieme agli altri la notte del 20 febbraio del 1917 sono in quattro a entrare nel consolato Papini Bronzin Campelnetti e Bones entrano aprono il cancello esterno salvano le scale aprono una due tre quattro dodici porte la tredicesima quella che dovrebbe essere sempre aperta purtroppo è chiusa niente da fare a quel punto si decide di fare il calco della serratura che è diversa dalle precedenti e di adattare una chiave non lì sul posto troppo rischioso si deve tornare una settimana dopo la notte tra il 27 e il 28 febbraio del 1917 seppreloni Cappellini Bones Papini Bronzin entrano in azione anche questa volta superano senza difficoltà il cancelletto d'apertura e poi le dodici porte arriva alle tredicesime la chiave adattata da Bronzin inizialmente sembra incontrare delle resistenti una veloce limatura e scivola come l'odio sono dentro sono nell'ufficio del capitano di Vasello Magno e identificano subito la cassaforte è grossa massiccia e richiede l'utilizzo di una fama ossidrica proprio per evitare che il bagliore della fiamma venga visto dalla strada ebbene i due ufficiali che accompagnano lo scassenatore e il fabbro prendono dei teloni e li passano sulle tente in modo tale che non si veda nulla serve un'oretta di paziente lavoro per aprire quella bella detta cassaforte ma all'interno c'è un vero e proprio tesoro non c'è solo un semplice elecchio ce ne sono parecchi di elecchi tutti con le foto i nomi reali i pseudonimi gli indirizzi i soldi versati e gli incarichi ma non ci sono solo gli agenti al soldo degli austriaci in Italia ci sono anche agenti francesi agenti belgi c'è di tutto i quattro prendono quel tesoro lo ficcano nelle borse diplomatiche e via di corsa prima che spunti l'alba i quattro hanno già raggiunto Aloisi e in tutta fretta si imbarcano su un treno per Berna da Berna Aloisi manda un telegram missione compiuta carica una valigia diplomatica i documenti sottratti e via di nuovo in Italia nei giorni delle settimane successive mentre si combatte al fronte mentre la lotta tra le trincee diventa sempre più dura e sempre più difficile avvengono retate la polizia arresta sabotatori e spie che finiscono tutte quante in carcere è una grandissima vittoria che però non viene pubblicizzata certo gli austriaci non sono stupidi vedono sparire una dopo l'altra le proprie fonti informative vedono che i loro agenti non si presentano agli appuntamenti non vengono a fare rapporto non vengono a ritirare il materiale per i sabotaggi in alcuni casi non ritirano nemmeno la posta capiscono che qualcosa è andato storto e lo capiscono soprattutto quando il capitano Mayer conferma che la sua cassaforte è stata scassinata ma nessuno ammetterà mai apertamente l'esistenza del colpo di Zurigo o che darà aspettare qualche atto per averne conferma ma sarà sempre una storia raccontata poco come tutte le storie di spie certo Aloisi verrà premiato alla carriera ma si tenderà sempre a mantenere nascosta la vera natura della sua missione in Svizzera un po' per riservatezza un po' per evitargli problemi d'altronde un accredito da diplomatico per un ufficiale dei servizi che imbastisce un'incursione in un'ambasciata di un altro paese non è esattamente qualcosa di meritorio nell'ambito della diplomazia e della comunicazione tra ambasciati mi pare ma questa che vi abbiamo raccontato è una storia vera una storia incredibilmente vera così vera da sembrare il frutto dell'immaginazione di qualche sceneggiatore di olio chissà magari qualcuno prima o poi deciderà davvero di farci un film eventualmente romanzerà le varie parti cambierà qualche nome chi lo sa ma questo non potrà mai cancellare la determinazione di Pompeo Aloisi e dei suoi uomini ufficiali di marina spie artigiani cassinatori un gruppo così eterogeneo che lavorò fianco a fianco per alcuni giorni con uno scopo comune quello di aiutare il regno d'Italia a vincere una guerra tragica complessa e in quel caso decisamente occulta